Kenabura, nonostante la tragica situazione, ha deciso comunque di portare avanti il programma di questo importantissimo convegno. Quali le motivazioni? Intanto abbiamo dimostrato che ormai si possono fare i convegni in qualunque parte del mondo avendo le persone come se fossero presenti. Noi che siamo ben organizzati siamo riusciti a portare gli interlocutori israeliani che purtroppo per loro sono impegnati in patria dopo questo cruderissimo attacco omicida di Hamas. E però anche loro hanno superato delle difficoltà perché adesso per esempio sta parlando l'ambasciatore Dror che è in casa con la famiglia perché sono nel bunker isolati a protezione dei razzi, dei missili che Hamas sta lanciando sulle città. Quindi nel convegno lo abbiamo fatto. C'era una grande richiesta e un argomento estremamente interessante perché si tratta dell'identità dei sardi e rivelare che quella che viene considerata da alcuno come delle storie è una realtà. Che gli sciardari erano sardi che erano presenti in Israele che probabilmente vivevano in questa fortezza forse una reggia che si chiama Elawat e che il principale diciamo il re di questa fortezza era il generale Sisara che riportato anche nella Bibbia come il generale sciardana quindi sardo che comandava l'esercito dei cananei che guerreggiava contro gli ebrei che entravano in Canaan. Sisara venne sconfitto, però nella Bibbia c'è il bellissimo canto di Deborah dove la mamma di Sidara, quindi una sarda del 1200 a.C., piange il non ritorno del figlio dimostrando l'umanità di una donna che comunque perde un figlio in guerra e questa cosa purtroppo è molto presente in questo momento nel quale sono centinaia ormai i soldati israeliani caduti nella difesa delle loro case che si stanno preparando comunque un'offensiva contro Hamas che sono peggiori delle SS nell'ultima guerra e nella Shoah.